Un giornalista di fama mondiale, un professionista che collabora costantemente con CNN, BBC e Washington Post, Ahmed Rashid nella serata di domenica ha raggiunto in residence le terrazze di Grotta Mare per una conferenza sui temi caldi come Jihad, Talebani e Iran, organizzata dal giornalista Andrea Barchiesi con il comune di Grotta Mare e il GUS, il gruppo Umana Solidarietà. Il dibattito è stato arricchito dalla presenza di Ahmed Rafat, responsabile per il Medio Oriente dell'agenzia ADN Kronos. I saluti di apertura della conferenza, moderata dalla giornalista Laura Ripani, sono stati affidati all'assessore comunale alla cultura Enrico Piergallini e al presidente della provincia Massimo Rossi. Impossibile non parlare dei talebani, visto il successo del libro omonimo scritto da Rashid, talebani che a noi occidentali sembrano distanti ma che monitorano accuratamente le altalenanti sorti dei paesi europei per guadagnare potere. Sono coscienti i talebani, per esempio, della debolezza all'interno della collisione di Prodi e per questo hanno rapito il giornalista, che ha creato una crisi in Italia. E così stanno facendo con le truppe tedesche nel nord. Se Rafat si è dilungato su una questione delicata come il nucleare in Iran, una minaccia civile più che militare, in quanto fra stati sarebbe usata come deterrente, il giornalista pakistano ci ha tenuto a sottolineare le differenze spesso trascurate dai mezzi di informazione fra la guerra in Iraq e quella in Afghanistan. Iraq è stata una guerra per scelta dell'America. Afghanistan non è stata una scelta, ma si è dovuta combattere. La discussione si è infiammata sul finale, dopo i discorsi di armamento protettivo, di dimostrazione di potenza per mantenere l'equilibrio e il cosiddetto balance of power, un appassionato Rossi, reduce dalla marcia della pace, ha fatto appello al disarmo ed una diplomazia più efficiente. Punti di vista diversi, non opposti, ma ancora una volta la conferma che bisogna valutare con coscienza i cambiamenti del mondo che gira intorno a noi. Punti di vista diversi, non opposti, non opposti, non opposti, non opposti, non opposti, non opposti. Punti di vista diversi, non opposti, non opposti, non opposti, non opposti.